Sampaiando, andiamo a andare giù No, tolto Sì, vai giù, vai giù Ma non ho sentito la uga, uga, uga No, vado, 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 vado Sampaiando, vado, 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 vado Vado, 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 vado Vado, 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 vado Vado, 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 vado Vado, 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 vado Vado, vado, vado Gianni! Gianni! Visti c'è ancora da su! Non c'è da stare la testa! Adesso! 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 Non devi mettere in medio media! Uno! Visto! Passi! Passi! Via! Ho vitto! Puta! Posa! Posa! Fai! Ayo sulla misca! Detta! Alla la estoy! Alla la estoy! No! No! Vistano? Vistano! Vistano! Allora Lea è in attacco la mischia nostra Mettimi in felore Chiudi, 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 chiudi Chiudi, chiudi, chiudi Chiudi, chiudi Burt Passi Lega Via Mettere a me E' uscita E' uscita E' uscita E' uscita numero 8, forza Rostegno, rostegno, spinta Uniti, uniti Chiudi 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 Guarda! facciamo comprare Guaridoio, aspetta! Guaridoio, all'epasci aspetta! tieni! tieni! più tieni! tieni! non c'ha la nide però No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che venghiamo. Senza concentrazione però. Ando, non ti sento e poi tu devi ascoltare quello che dico io. che devi fare? ma che devi fare? edd 10 10 10 linea treccos Valerio, fatemi vedere, fatemi vedere, polizia, polizia Non ti devi fermare, eh, non ti devi fermare Oh, fermatemi, mi faccio vedere, non ci prenderanno Corridoio, a tenope, corridoio Quanti ne siete? Dove ti conto Aspetta, Meri sulla linea, Meri sulla linea Ma non devi ascoltare loro, ascoltami Ok, completo, su Bene, bene Ok, bene Con un basso, fine E con un abbraccio, viviti eh E con più non pardo Non è un modo per... Ma dai soci non è? Masi Oh! Ma hai visto? Voi... Voi... Ma hai visto? Ma hai visto? più stretto Simone sono all'interno non vedo più il papà di Francesco non vedo più il papà di Francesco ma questo sì dai Marco dai Marco che cosa vuoi segnare? Michele sta insatisfatto che vuoi segnare ha fatto 3 metri no Alessà, Michele ha fatto un pallone, non vuoi segnare Alessà, ma quando segni metà, la mamma te li dai 5 euro? a Santa Maria si usa così, cioè per ogni metà segnata le mamme danno 5 euro si, ma le mamme dei propri figli, non le mamme, tutte le altre mamme facciate 8 euro come si vendono per 5 euro queste pastate molto peggio delle prostitute molto peggio delle prostitute le mamme di gris 5 euro soltanto pronto fuori righetti fuori un minuto ti entro vabbè righetti non fa niente il minuto no 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 un minuto ha detto? faccio vedere che mi ha dato tutto tutto va a dire senza non ne devo dare ranca un minuto ebbè per la soddisfazione lo prendete getter su ah getter su si cioè mamma mia Mattia non è la gualla non è la gualla Francesco, vai a fianco a Michele. Vai, vai, a sinistra, a sinistra. Valerio! Non so. Non corre la nonna. Perché corre la nonna? Tutti in fuori i suoi uomini! Oh, prendi la malla, veloce al fascista! Vai lì! 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 Vino a destra! Sì, non scemo duri. Vado giù. Si è calciato con la nonna e poi lì giù. Ora qui si fa la padrona apposta. Vino a destra! Vino a destra! E pot erano riusciti! No! Vino a destra! Non lo so, andiamo! Vai Marco! Rico! 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 ma io abbracciamo a finelli sta pulito